E' divorzio tra Gran Bretagna ed Unione Europea. Gli esiti del referendum sulla Brexit hanno sancito l'uscita del Regno Unito dalla UE, non senza però ripercussioni per gli altri stati europei. In questo momento anche le ripercussioni non sono facili da comprendere, quindi i prossimi giorni ci diranno anche quali sono le reazioni dell'economia, dei mercati e di tante altre valutazioni che andranno fatte sulla politica europea. L'Italia chiaramente deve in questo momento avere la forza insieme agli altri paesi che guidano in questo momento politicamente l'Unione Europea di trovare soluzioni per un'Europa più moderna e più solidale. Questo sicuramente è l'obiettivo perché bisogna tornare a politiche che i cittadini e i popoli comprendano molto meglio di quanto è accaduto fino ad oggi. E' chiaro però che questa scelta metterà a repentaglio anche la nostra economia e nei prossimi giorni sicuramente le ripercussioni saranno forti e tutte quante ancora da comprendere fino in fondo. I pericoli ci sono di un'Europa disgregata, un'Europa dove i popoli non si parlano più. Quindi dobbiamo ripartire dai giovani come per esempio abbiamo fatto in questi giorni grazie a molti giovani impegnati in progetti in Europa. Come la rete Betnet per esempio con la rete di giovani di Arezzo e non solo, di francesi e olandesi che si muovono per costruire un'Europa in cui i giovani sono protagonisti e forse inneschino anche la scintilla politica per avere soluzioni che siano all'altezza di un continente così importante che ha bisogno di trovare maggiore unità. L'eco della Brexit e delle sue ripercussioni arriva anche ad Arezzo. I sentimenti degli arettini si dividono tra gli entusiasti per la decisione britannica che auspicano un referendum simile in Italia e quelli invece più timorosi per le conseguenze di questa separazione interna all'Europa. Una notizia inaspettata, staremo a vedere come andranno le cose. Hanno espresso il loro voto, il loro giudì, il loro parere e quindi vediamo. Insomma per l'economia è una bella batosta. È fatto bene. È fatto anche in Italia un referendum simile? Io voterei per uscire. Staremo male, ma almeno forse ci riprendiamo, se non noi andiamo tutti sotto terra. Secondo me è un male, secondo me. Perché a parte che ora, non lo so, nel giro dell'anno due verranno fatti i passaporti e tutte le cose. E poi anche per l'economia non credo che sia un vantaggio. Da una parte sto a favore, da una parte no. Però diciamo, noi non ci si può fare niente. Mi auguro che non venga dietro altre nazioni. Speriamo bene, perché ho paura che diamo una botta all'economia, che in questo momento non farebbe bene né all'Europa né all'Italia. Tutti nel baratro dal mio punto di vista. Perché già ieri le borse sono crollate. Se l'Inghilterra non si stabilizza, si rischia che crolli tutta l'Europa.